La terapia semintensiva pediatrica, reparto ad alta intensità, si amplia a tutto vantaggio dei piccoli pazienti con patologie di media entità. Grazie al tempestivo intervento della Fondazione San Bortolo, cinque nuove stanze equipaggiate con avanzate tecnologie potenziano l'offerta di cura di una pediatria di riferimento per tutto il Beneto. E' una ristrutturazione e una re-ingegnerizzazione che ci permette di dare una risposta ancora più performante dal punto di vista della continuità delle cure partendo dall'intensivo fino alla dimissione. Fare presto e bene è il motto della Fondazione sostenuta da tante realtà vicentine, 340 mila euro la cifra raccolta. Noi non guardiamo i conti, guardiamo la profondità dell'operazione, la necessità e dopo ci penserà la provvidenza e partiamo. Le cinque stanze nuove si aggiungono a quelle già esistenti consentendo la massima sicurezza nelle procedure d'urgenza. Poter isolare i pazienti a seconda delle loro esigenze che siano infetti o che abbiano bisogno di essere protetti dalle infezioni, questa è una peculiarità che non hanno tanti ospedali. Noi adesso in questo momento possiamo gestire con assoluta tranquillità in queste dieci stanze sia un bambino infetto che deve essere isolato, sia un bambino immunodepresso che deve essere isolato per motivi esattamente opposti. E anche il mondo dello sport ha contribuito a veicolare il messaggio indossando la maglia con il logo del San Bortolo. Credo sia uno dei modi più sani per poter promuovere questo messaggio anche alle persone che ci vengono a vedere.